ciao sono lucarici della rg infissi è già tanto tempo che collaboriamo con rossini tv mi hanno sempre offerto un ottimo prodotto ci siamo sempre trovati bene sia per l'inaugurazione sia per i vari vari video e sia per i vari spot pubblicitari la consiglio vivamente a tutti un saluto dalla rg infissi ciao rg infissi realizza il tuo sogno di casa ciao